Pensiamo ad una velocizzazione dell'ingresso a Camerota e Palinuro, riprendendo un vecchio progetto, ma anche attraverso una modifica. Sono in corso le attività di ultimazione del progetto integrato sulla Pisciottana, quindi nell'arco di 3-4 anni la viabilità nella costa cambierà completamente. Nel Vallo Ridiano, nelle prossime settimane, ci saranno consegne di 4-5 lavori importanti, tra Polla, Sant'Arsenio, Sala Consilina. La settimana scorsa siamo stati a campagna, proseguono, nonostante piccole difficoltà iniziali, i lavori sulla Bratella, Massicello e Laurito. Nel giro di 2-3 anni porremo in essere una serie di interventi che cambieranno obiettivamente e meglio la qualità della vita, i tempi di percorrenza e l'accessibilità nel Cilento, sapendo ovviamente che c'è un grande appuntamento al quale ci dovremo far trovare preparati, sul quale stiamo lavorando e sul quale voglio dire con il Presidente Alfieri nei prossimi giorni incontreremo anche nel Cilento gli operatori turistici, gli amministratori, le associazioni, che è l'aeroporto di Ponte Cagnano, per ipotizzare soluzioni di un più rapido conseguimento dell'area stazione, sapendo ovviamente che c'è una grande opportunità per tutta l'economia di questo territorio che dobbiamo cogliere attraverso un miglioramento degli standard non solo nella viabilità ma nell'offerta complessiva del Cilento e di questa parte di territorio. Grazie a tutti.